Un'altra importante vittoria per la Cina, ma domani Cisi gioca la vetta contro il Giappone. Ma domani non, sono più veloce e più veloce, quindi sono buoni per la difesa, quindi prendiamo molto attenzione. Una velocità di gioco e con un'ottima difesa, quindi daremo comunque il massimo. Grazie. C'è tanta attesa tra di voi e anche nel vostro paese per la gara di domani. Quindi, le vostre aspettazioni sono davvero grandi, voi come squadra, ma anche le vostre famiglie. Sì, voi come squadra, quindi la vostra squadra ha grandi aspettazioni, ma anche i vostri spettatori, i vostri spettatori a casa. Sì, siamo tutti uniti dallo stesso sentimento, quindi c'è questo che ci ha comune, che ci dà la forza, in quanto l'obiettivo comune è proprio quello di vincere, quindi sia noi come squadra che altrettanto i nostri appassionati tifosi. Grazie.